Un po' delle cose come vanno, il SEV con poche persone, regular, f***a abbastanza bene Demon, ok, dove sei? Ragazzi, qua c'è gente, zombie ammazzati Dove sono io, c'è gente Allora, io sto entrando Entro? Sì, sto entrando e io sto scendo fuori subito a corsa Perché c'hanno ammazzato, c'erano zombie morto sulla porta Mi dirigo a Est-Nord-Est Oh, Demon Nord-Est, scusa Demon Est-Nord-Est perché c'hanno i... i cosi Demon, est-Arc Silenzio ragazzi perché io sono in una zona, non avete capito dove sono io, che cosa c'è Che ho capito, è la bronchina e quindi Ragazzi, stai disinti per piacere Io qua rischio di... Sì, è il Drakon Sei entrato, tu sei logato Ho due zombie che mi vengono dietro pure Essendo sparare in lontananza Benissimo Io con... Pure con... Demon, stanza ospedi 2 Stanza ospedi 2 Allora, dimmi quando loghi su suo server, ok? Allora, se io log... Se tu loghi, logga... No, no, perché non lontani? Logga e vai subito tipo Est-Nord-Est o qualcosa di genere Luca, ma... Eh, Luca... Eh, caro... Ciao, zitto Allora, adesso... Adesso non rompere perché è critico Se a me mi sfiora solamente una flatulenza dal di dietro Io sono morto, hai capito? Quindi, per piacere... Silenzio che mi sto bendando E c'è qualcuno qua Ma stai venendo a dire di me? Stai zitto Ma che... Guarda, sei fortunato che non posso bestemmiare, guarda... Allora, sei loggato, tu? Io un attimo mi... Oh, mi... Sono appena intratto nel server e sto loggando Quando loghi, esci subito cerca... Con maschio o femmina, scusami? Femmina Benissimo Io sono... Sai le mura che ci sono? Sì Più o meno sì Dietro... L'Aerfield? Sì E credo di sapere... Nord e Nord-Est Cioè... Sì, basta che vai... Dalla parte opposta del life Sì, sì, sì Praticamente, va bene? Perché stanno sparando per ora... Un po' più a... Neanche si riesce a vedere la bussola quando è giorno qua Che ricezione Sì, ragazzi, posso sapere almeno dentro dove cavolo mi devo avviare? Tu devi stare però non c'è un problema tu Prima fai sopravvivere da un secondo, per cortesia Poi veniamo noi da te Oh, è locato Silenzio Voglio correre Sì, corri subito Corri, va bene? Corri da dietro C'è un elicottero C'è qualcuno che vola con un elicottero, sì Un attimo che mi do lo sistema Silenzio Silenzio No, 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 c'è sempre questo tempo Non è convivenza il loro veicottero Sì, tri ping ? Sì, ichimio Dimmi quando sta arrivando C'è quello Sì, adesso Mi sono passato Era Mi sono passato Seiele Miitationsio sono covacciato sto procedendo verso il nord est cioè ci sarà il muro no vedrai ci sarà il muro qua c'erano sopra l'elicottero lo vedo sono un elicottero ma sei arrivato a sto muro che ci vogliamo l'hai oltrepassato vai nel boschi lo devi oltrepassare velocemente perchè ti vedono con quel cavolo di coso ti ammazzano cioè all'elicottero ti sparano ok no tieni pensate sempre di una donna accovacciata che comincia che si muove destra e sinistra e sono io c'ho c'ho l'elicottero sopra la testa ragazzi ce l'ho sopra la testa ok io vedo tre zoni e qua mi vedono mi sa mi sa che mi hanno visto io sto in mezzo agli albi ma corri ancora più dentro nella foresta mi oddio ti devo vedere perchè non posso spararli perchè non so se arriva qualcuno se tu o tu non so ce l'ho sopra la testa proprio ce l'ho sopra la testa sono dietro un albero io nascosto ho trovato una stradina ma tu com'è che non si è riuscito a arrivare dietro sto caspita di muro e non si è venuto da me che sei su una stradina no l'ho surpassato il muro non per poco sono arrivato a una stradina io qua c'ho l'elicottero a me e qua sono accolati a me e vedo uno fuori dalla cosa con la mitragliatrice aspetta un istante che vedo se riesco a farlo volare questo cazzo di fucce sono sopra la mia testa sifirica silenzio siete silenzio siete silenzio siete silenzio siete silenzio siete mi hanno visto mi stanno correndo sull'elicottero mi sparano mi sparano vedo l'elicottero silenzio silenzio mi inseguono mi sparano si mi sparano come i cani l'elicottero si sta allontando silenzio si sta allontando perchè mi sto allontanando baby i got an helicopter hunting me si non voglio morire da et ma cippe ahi sto stentino silenzio c'ho pure uno zombie ora addosso l'ho ammazzato non so che hanno fatto questo elicottero secondo me se ne sono allora ragazzi dove siete voi allora io sono sulla stradina hai presente quella che passa a nord est dell'airfield allora se ti metti un posto sicuro guardi un attimo la mappa non ho un posto sicuro al momento l'ho capito ok no no che devo allora praticamente sto a nord allora ci possiamo vedere dietro il primo hangar dell'airfield ecco perfetto che è la cosa migliore ok vediamoci la perchè è l'unico posto che fossi a cercare perchè questi di qua sicuramente se fossi in loro quello che farei è atterrare da qualche parte e far scendere la gente perchè hanno notato che aveva un fucile a cecchino quello che non volevano fare secondo me era si spaventavano perchè quello che cercavo di fare era cercare di sparare alle persone sopra quel caspita d'aereo di elicottero quindi quello che avranno fatto saranno scesi e avranno cominciato a fare scendere e saranno atterrati e avranno cominciato a fare scendere le persone da quell'elicottero vi spiego mi ero lontanato quel po' dagli hangar è un po' dagli hangar